La campagna elettorale per le elezioni europee si scalda e travalica i confini nazionali. Il caso è quello del governo gialloverde italiano che ha appoggiato a sorpresa il movimento francese dei gilet gialli in funzione anti Macron. Gli strali partono dai ranghi più alti della politica italiana per arrivare dritti all'Eliseo. Ho tutto il sostegno possibile per i francesi che educatamente e rispettosamente stanno facendo presente a un presidente che non fa l'interesse del popolo francese, che prima va a casa, meglio è, però ogni episodio di violenza è da condannare senza sé e senza male. Parole seguite all'endorsement che l'altro vicepremier italiano, il 5 Stelle Luigi Di Maio, aveva fatto dalle colonne del blog del movimento e poi su Twitter, esortando i gilet gialli a non mollare, ad accomunare i due movimenti, secondo Di Maio, la condivisione della lotta per la democrazia diretta, ragion per cui il vicepremier si spinge fino a mettere a disposizione del movimento francese la piattaforma online dei 5 Stelle Russo per definire il loro programma elettorale. Ma la risposta francese non si è fatta attendere. La ministra Nathalie Ouasot ha consigliato a Di Maio di occuparsi del benessere degli italiani, pretendendo rispetto sul piano delle relazioni diplomatiche. Un posizionamento, quello di Lega e 5 Stelle in favore dei gilet gialli, che mira con ogni probabilità a capitalizzare, anche dentro le urne italiane, l'effetto dirompente che la protesta in Francia ha avuto contro l'europeista Macron. Secondo i dati dell'aggregatore di sondaggi Poll of Polls, il fronte antisovranista è ancora in vantaggio sulle forze antisistema, ma i gruppi euroscettici e di estrema destra registrano una vera impennata di consensi.